La decisione di istituire insieme al Consiglio Nazionale dei Geologi e al Consiglio Nazionale degli Ingegneri la prima giornata di prevenzione e medicazione del rischio idrogeologico è scaturita dalla consapevolezza che il problema del dissesto idrogeologico nel nostro Paese è una priorità. Sappiamo come gli eventi meteorologici estremi sono sempre più frequenti proprio perché c'è cambiamento climatico in atto e quindi bisogna intervenire con soluzioni efficaci pianificando delle serie politiche integrate di prevenzione del rischio idrogeologico ma anche facendo tanti interventi di tipo uno strutturale quale l'aggiornamento dei piani territoriali e l'aggiornamento dei piani di assetto idrogeologico. Gli interventi devono essere pianificati in maniera pluriennale però stabilendo con precisione le priorità da adottare.